Continuano gli incendi a Torre del Greco. Anche quest'anno documentiamo i numerosi roghi che si sviluppano alle pendici del Vesuvio. Alle telecamere di TV City, Silvano Somma, presidente dell'associazione Prima Aurora, che si occupa della salvaguardia del territorio. È stata abbastanza rovente da questo punto di vista. Si sono verificati vari incendi di diversa natura, probabilmente alcuni dolosi e alcuni colposi, che hanno interessato tutta la fascia montana della città di Torre del Greco. Per fortuna tutti gli incendi sono stati presi sul nascere e quindi si è evitato che poi si sviluppassero eccessivamente e diventassero poi inestinguibili. Qual è stata l'azione dell'associazione Prima Aurora? L'associazione è stata in prima linea soprattutto per quanto riguarda l'avvistamento dei focolai e il primo intervento, dando supporto poi a quelle che erano le forze dello spegnimento, soprattutto poi nel raggiungere i luoghi dove si stava verificando il fenomeno stesso. Infatti spesso non è facile raggiungere l'incendio o rendersi conto, diciamo, di dove si sta sviluppando lo stesso. Infrastrutture antincendio e persone sul posto pronte, afferma il presidente di Prima Aurora, che ritiene fondamentale il primo intervento. Per evitare gli incendi bisognerebbe attuare serie misure di prevenzione, sia di tipo selviculturale, quindi con la predisposizione di infrastrutture antincendio, quale via tagliafuoco e fasce parafuoco, sia diciamo avere in campo già mezzi ed uomini pronti all'intervento, perché il primo intervento è quello fondamentale che aiuta quindi a fare in modo che l'incendio non si sviluppi eccessivamente. Ha attivato anche il piano AIB della Regione Campania per evitare nuovi roghi sul territorio vesuviano. La Regione proprio quest'anno ha lanciato il nuovo piano AIB della Regione Campania ed ha previsto all'interno una multistruttura degli incendi, dando maggiore importanza a quello che è l'aspetto forestale anche del fenomeno, perché la prevenzione va fatta in bosco prima che si sviluppi l'incendio stesso. Per quanto riguarda gli uomini e mezzi, come sempre sono stati messi a disposizione sia gli elicotteri, sia i canader, sia soprattutto il personale a terra, perché dobbiamo ricordare che l'incendio è fondamentale spegnerlo da terra, soprattutto nelle fasi di bonifica. Infatti questa è stata una delle problematiche maggiori che si è riscontrato, una scarsa bonifica e quindi una ripartenza dello stesso incendio anche a distanza di più giorni. Quanti sono stati i roghi sul Vesuvio? Quest'anno diciamo, prendendo come riferimento poi quelli che sono gli eventi segnalati, abbiamo avuto almeno una cinquantina di incendi, senza ricontare però appunto le ripartenze, che spesso sono un elemento sottovalutato, che poi diventa drammatico, perché tornare a spegnere lo stesso incendio vuol dire di utilizzare uomini e mezzi che potrebbero in realtà recarsi su un altro focolaio. Quindi ripeto che è fondamentale l'attività di bonifica fatta da terra con strumenti manuali. Inoltre abbiamo previsto un'assemblea regionale delle associazioni ma anche delle categorie professionali per quanto riguarda la problematica degli incendi boschivi che si svolgerà l'11 ottobre alle ore 10 presso la nostra sede. Ed avremo proprio come compito e come scopo quello di mettere insieme le forze, studiare le criticità che si sono rinvenute su tutto il territorio regionale e poi presentare al momento giusto un documento alla regione per la nuova pianificazione antincendio.